Passerei quindi alla seconda relazione del bello dottor Andrea Panico. Il dottor Andrea Panico è psicoanalista e psicoterapeuta, vive e lavora a Milano, è presidente di Telemaco, grazie. Presidente di Telemaco Jonas Milano, membro dei consigli direttivi di Jonas Onus e Jonas Italia, docente IRF, associo della società milanese di psicoanalisi. Ha recentemente pubblicato il libro Bachman, attraverso il libro di Stregio e l'adolescenza come metacola della psicoanalisi, edito da pagina 8, all'interno della casa di Triccio e dirige anche la collana futuro anteriore. E ha curato, proprio durante l'emergenza pandemica, il book digitale scaricabile gratuitamente dal sito Jonas Italia, clinica dell'Ordana. Si occupa nella sua attività professionale, clinica degli adulti e degli adolescenti. Appunto, il dottor Panico ci parlerà, come dicevamo, gli effetti dei colpi sui adolescenti, depressione e sensualamento. E, in particolare, per le collegarie, in quanto detto alla professoressa Volpato, diciamo, anche allo stigma sociale, perché anche le adolescenti sono in parte stati oggetto in questi due anni, come spesso considerati come vettore del virus, come i giovani, vettore di contagio, poiché è magari più incline ad assembrare, rispetto alle persone adulte, considerati più responsabili. Ecco, questo perché? Perché probabilmente, forse, gli adolescenti più di altre categorie hanno seguito il peso di alcuni fenomeni, del confinamento, diciamo, di alcuni, insomma, di isolamento che la pandemia ci ha, in cui ci ha, diciamo, portato. Per cui ce ne parla come una relazione proprio sul tema. Grazie. Grazie a voi. Quando avevo 16 anni suonavo la batteria, quindi con i microfoni non me ne intendo tantissimo. Facevo più casino. Dunque, beh, innanzitutto grazie dell'invito, grazie a voi per essere qui questo pomeriggio di vigilia della chiusura e delle limitazioni, non so come dirla adesso, e rispetto a mascherine e quant'altro. E ringrazio molto anche la professoressa Volpato perché mi ha fatto una quindicina di assist rispetto a quello che pensavo, penso, penserò di dirvi questo pomeriggio. Non ho preparato una relazione scritta, ma perché appunto, un po' come musicista, mi piace comunque improvvisare. Poi di giorno faccio psicanalista e quindi mi tocca ascoltare quello che è il lato oscuro della luna, sempre per rimanere in tema di musica, ovvero il disagio, le difficoltà, i sintomi delle persone, le sofferenze delle persone che, come non c'è bisogno di Freud per ricordarlo, negli ultimi due anni, si sono piuttosto acuite proprio in virtù di quello che è successo con il coronavirus. È successo quello che è successo, si diceva qualche tempo fa, rispetto al virus. L'assist principale che mi ha fatto la professoressa però torna indietro di cent'anni. Nei psicanalisti abbiamo questo vizio di continuare a fare riferimento a Freud. In particolar modo ho un testo che per quanto mi riguarda è il testo principe della teoria psicoanalitica, ovvero non è l'interpretazione dei sogni, non sono neanche tre saggi sulle teorie sessuali, per quanto questi testi ovviamente contribuiscano in largo modo a inquadrare tutta la teoria della psicoanalisi e poi ovviamente i suoi conseguenti sviluppi, che sono vari ed eventuali, ma in particolar modo mi riferisco a un testo che appunto è del 1920, casualmente esattamente cent'anni prima dello scoppio della pandemia, che è al di là del principio di piacere. Un testo molto vario, variegato, all'interno del quale Freud in buona sintesi arriva a teorizzare quella conosciuta poi come pulsione di morte e che per giunta all'interno delle scuole di psicoanalisi è raramente stato considerato come un concetto degno di nota, a parte la scuola che fa capo a Jacques Lacan e a Melanie Klein. Ma perché ci interessa questo testo, che è un testo molto scuro, molto cupo, molto cinico, nichilista, negativo, chi più ne ha più ne mette insomma, però il versante è quello del segno meno per intenderci, non certo del segno più, non è la buona novella quella che racconta Freud in quel testo. Ci interessa perché Freud fa un'operazione concettuale all'interno rispetto al sistema psichico che va appunto in assoluta continuità, a mio avviso, poi magari la professoressa mi contradderà, spero di no, però in continuità con quello che la professoressa Volpato ci ha raccontato nella redazione precedente. Qual è questo concetto? Freud, sintetizzo perché non voglio tediarvi più di tanto, ma mi serve questo per inquadrare poi quello che è avvenuto cent'anni dopo, in particolar modo appunto riguardo agli adolescenti. Freud teorizza due serie di pulsioni, che sono le pulsioni sessuali e le pulsioni dell'io, o di autoconservazione. Queste due forme di pulsioni hanno un meccanismo proprio che in buona sostanza andrebbe, per quanto riguarda le pulsioni di autoconservazione, che sono quelle che ci riguardano, a voler limitare lo stimolo esterno in quanto produttore di tensione e quindi di disagio per poter stare bene. Non so se sono stato chiaro. In buona sintesi, di nuovo, che cosa fa star male il soggetto, meglio ancora il soggetto dell'inconscio? La tensione che viene provocata da uno stimolo esterno. Se io limito lo stimolo esterno, di conseguenza limito la tensione e vivo in pace. È quello che Freud chiama, attraverso Schopenhauer, il principio del nirvana. Meno roba c'è di fuori, meglio sto dentro. Ovvero più alzo le difese rispetto al mondo esterno, più il mondo all'interno è sicuro. Più le mura sono alte, solide, più c'è sicurezza al loro interno. Questo per quanto riguarda l'apparato psichico. Qual è il problema? Ed è questa la cosa, come dire, potente del testo di Freud, che a partire da queste, che appunto Freud chiama pulsioni di autoconservazione, l'io si protegge dal mondo esterno, protegge se stesso da quello che potrebbe avvenire dal di fuori, alla fine della fiera accade che l'io rimane l'unico abitante di una fortezza chiusa verso l'esterno e ci muore dentro. La cosa ancora più contraddittoria che in questa spinta verso la morte il soggetto dell'inconscio ci gode, ovvero più sta male, più sta meglio, meglio sta, perdonate, è quello che io sintetizzo un po' a fumetti quando dico che quelli che hanno scritto sui pacchetti si erette e fumo uccide, sapevano il fatto loro. Come mi diceva un paziente una volta, diceva, ma dottore, com'è che le cose buone da mangiare di solito fanno male? Dico, guardi, a livello logico è l'esatto contrario, sono buone perché fanno male. Questo è il funzionamento maledetto dello psichismo, che Freud è nuclea in questo testo e che chiama al di là del principio di piacere e che chiama quindi pulsioni di morte, in opposizione alle pulsioni sessuali, che sono invece le pulsioni più propriamente di vita, più erotiche, eros contro thanatos. Questo paradigma, che spero di aver sintetizzato senza far ribaltare il padre della psicoanalisi nella tomba, è qualcosa che si è dato alla luce del sole negli ultimi anni, in particolar modo poi per quanto riguarda gli adolescenti, ma per quanto riguarda proprio il nostro mondo. E che Massimo Ricalcati ha denominato paradigma securitario della nostra società. Un paradigma appunto che vede all'esterno il nemico, come ricordava la professoressa prima, come modalità per rinforzare i confini interni. Ma in questo meccanismo chi ci fa le penne, poi fondamentalmente, rimane il soggetto stesso. Per dirla con un'immagine neanche troppo metaforica, è quello che accade anche con l'abuso, utilizzo sfrenato, chiamatelo come volete, di farmaci. Mi ricordo, qualche anno fa, sono andato a New York, ho incontrato una persona che lavora per la casa farmaceutica che produce l'occhi, che è una casa farmaceutica italiana. E io dico, questa persona, beh, chissà quanto ne vendi qua di occhi, no? Eri saputo un po' che gli americani appena hanno un brufolo prendono antidolorifico. No, no, dici, guarda, per loro è acqua fresca. In che senso per loro è acqua fresca? Sono talmente tanto a suoi fatti dalla protezione del dolore, dall'innalzamento, dicevamo prima, delle difese, in questo senso, fisiologiche, ma anche psichiche, rispetto alla sofferenza, che nel momento in cui hanno un mal di testa, gli ci vuole, a proposito di, in questo senso, ovviamente, metaforicamente parlando, gli ci vuole la bomba atomica per farselo passare. Altrimenti, non passa nulla. Se noi traduciamo questo come un funzionamento collettivo, sociale, nonché soggettivo, capite bene che nel momento in cui ci hanno detto statevene tutti chiusi in casa, c'era qualcosa che, come dire, andava un po' in continuità con quello che stava accadendo all'esterno. E questo, per giunta, in contrapposizione a un movimento, diciamo, diametralmente opposto del nostro discorso sociale che invece è quello teso a far sì che i limiti, le imposizioni, i vietati vari ed eventuali abbiano completamente perso il senso. Non voglio fare la retorica del si può fare tutto, non si può fare niente, eccetera, eccetera, però di fatto non andiamo molto lontano da questo quando, ad esempio, ascoltiamo i genitori dei nostri pazienti, dei miei non è un pluralis maiestatis, e ci dicono bah no, mica glielo do l'orario di rientro a sera, mia figlia a 16 anni può tornare quando vuole. In che senso quando vuole? Perché tu pensi che tua figlia a 16 anni sappia quello che vuole? E già tanto se lo sa un adulto quello che vuole generalmente, anzi, di solito vengono in analisi proprio perché non lo sanno quello che vogliono ma questo è un altro film. Ma no, io non gli do l'orario perché sennò poi divento un papà cattivo, una mamma cattiva. Ah sì? Sì, perché sennò poi non mi vuole bene. Sintetizzo colloqui su colloqui di genitori che fondamentalmente dicono più o meno tutti la stessa cosa piuttosto che no, l'altro giorno mia figlia è tornata alle 4 del mattino dalla discoteca figlia 15enne sbronza marcia e ha vomitato l'inverosimile appena si è distesa a letto. Io le ho detto che sono cose che succedono a questa età. No signora, io e lei sappiamo che sono cose che succedono a questa età. Tu o tua figlia devi dire che sono cose che non devono succedere né a questa età né anche dopo perché altrimenti nel momento in cui ti manca la mancanza direbbe Lacan ovvero sei proiettato direttamente nella dimensione dell'angoscia non sai più da che parte voltarti. Dire a un ragazzo torna quando vuoi vuol dire buttarlo come in una sorta di campo sterminato dove all'orizzonte non si distingue nessun punto di riferimento il cielo casualmente nuvoloso non si vedono neanche le stelle e uno ti dice vai dove vuoi dove andate? Dove andate se siete in un posto simile? non potete andare da nessuna parte rimanete immobili ti si deve dire torna alle undici mezzanotte quello che ti pare insomma a seconda come dire delle tradizioni familiari e soprattutto non pretendere che tuo figlio tua figlia scocchi la mezzanotte al rientro a casa manco fosse cenerentola tornerà un quarto d'ora dopo venti minuti dopo se torna il giorno dopo abbiamo un problema piuttosto importante ma se torna dieci minuti prima vi assicuro che a 16 anni abbiamo un problema peggiore perché vuol dire che abbiamo un adolescente che continua a rispondere adesivamente alla domanda dell'altro come se fosse un bambino e negli ultimi 15-20 anni questi due movimenti quindi quello della chiusura quello della protezione quello della sicurezza e quello del fai come vuoi tutto il limitato sono andati fondamentalmente a cozzare l'uno contro l'altro è arrivato il covid a metterne in luce tutte le contraddizioni quindi da un lato il ti proteggo perché se no ti fai male dal trauma perché se no si traumatizza non gli dico di no perché se no si traumatizza io vi ho fatto l'esempio dell'orario di rientro ve ne posso fare 800.000 ovviamente e dall'altro il fai quello che vuoi perché se no ci rimani male cosa è successo quando cosa è stato febbraio marzo non mi ricordo più è arrivato in Italia questo benedetto maledetto covid che dir si voglia è successo dicevo che questa tensione è emersa in tutta la sua appunto contraddizione e a farne le penne innanzitutto per certi versi ovviamente perché le penne le abbiamo fatti tutti d'altra parte sono stati in particolar modo gli adolescenti adolescenti che sono stati sempre più cresciuti nel tempo nella bambagia Winnicott dice che è stato il terrore della bomba atomica in questo senso i riferimenti che faceva la professoressa prima alla guerra e ai conflitti e al covid come guerra mi trovano assolutamente d'accordo con lei io ho colleghi anche stimati che dicono una guerra no tesoro tu non sai che cos'è una guerra vai in siria vai in ucraina adesso e poi ne riparliamo non è stare chiusi sul divano a giocare alla playstation una guerra per quanto mi riguarda poi ognuno ha il suo punto di vista Winnicott diceva che il terrore della bomba atomica ha fatto sì che noi andassimo piano piano sempre più educando una generazione a essere appunto protetta a poter fare quello che voleva al perché sennò si traumatizza perché sennò mio Dio che cosa succede e succede che ad esempio quando l'anno scorso cioè anno scolastico 2020-2021 il liceo Parini di Milano occupa il liceo Parini che ricordo essere stato l'avamposto del 68 milanese occupa io vengo a sapere dalla radio che erano dieci anni che il Parini non occupava in che senso sono dieci anni che non occupi adesso un mesetto fa ho fatto una conferenza con dei presidi ho detto le cose che sto per dire a voi adesso poco ci mancava che dovesse uscire dalla porta dei servizi perché sennò mi venivano tutti addosso però annetto che le occupazioni sono illegali questo e quell'altro tutto quello che vi pari insomma no? però se un gruppo di adolescenti se una scuola di adolescenti se il liceo Parini di Milano per dieci anni non occupa vuol dire che non c'è nulla di cui lamentarsi che va tutto bene che c'è come quando occupavo io c'è pure la cartigenica nei bagni e che cavolo la cartigenica nei bagni non ci vuole noi dobbiamo porci come mondo adulto come qualcuno contro cui andare per quanto riguarda ovviamente il mondo giovanile non in tutto e per tutto ci mancherebbe ma se ai sedicenni del Parini va tutto troppo bene forse non va davvero tutto troppo bene perché l'adolescenza è scontrarsi con l'altro nel bene e nel male ci mancherebbe un conto è occupare una scuola un conto è fare le rapine a mano armata ci mancherebbe però come veniva ricordato anche dall'intervento fatto dal pubblico rispetto alla relazione della professoressa Volpato che ci è fatto una panoramica dall'antica Grecia a oggi con una certa facilità a proposito di mondo illimitato con un click vai dall'altra parte del pianeta digitando su google adolescenti antica Grecia sumeri varie ed eventuali trovate frasi del tipo ma sti giovani d'oggi non ci sarà più il futuro di una volta non c'è scritto non lasciano il posto le vecchiette sull'autobus perché non c'erano gli autobus ma il concetto è esattamente lo stesso non c'è scritto vanno con le mutande di fuori perché si vestivano in un altro modo ma l'adolescenza è sempre stato questo e sempre sarà questo dall'altra parte è sempre l'allieno lo straniero a proposito è sempre quel qualcosa che non rientra nel previsto e invece no noi come mondo adulto negli ultimi 10-15 anni abbiamo cercato di renderla prevedibile abbiamo cercato di renderla seguibile seguibile intendo proprio col gps adesso si vendono gli strumenti che mettono la monettina nello zaino del bambino e sai perfettamente dov'è vita natural durante e no perché sennò poi va a farsi le canne no no non hai capito le canne se le va a fare perché sennò non sa più come andarsene dalle tue grinfie il registro elettronico vogliamo parlare di questo? io ho una battaglia aperta con il registro elettronico è una cosa tremenda per chi non ha figli adolescenti per chi non vede adolescenti probabilmente non sa di che cosa sto parlando quindi faccio un piccolo riassunto e questo è un registro soltanto che non è cartaceo perché lo dice il nome stesso è elettronico su cui vengono segnate assenze presenze voti e anche i compiti tutto sotto lo sguardo panoptico mi verrebbe da dire dei genitori che quindi sanno esattamente quando i loro figli entrano a scuola quando escono alla scuola che voti hanno preso che voti non hanno preso e che compiti devono fare il pomeriggio a casa adesso io non voglio fare come quel politico italiano che ha dato agli adolescenti dei bamboccioni però l'effetto non è non va molto lontano da lì se io ah non devo farmela sotto quando arrivo a casa per dirti che ho preso 4 il latino oppure per dirti che ho preso 8 il latino quindi anche la gioia stessa di dirti quello che mi è accaduto perché intanto gli adolescenti da che mondo è mondo quando faccio le conferenze ai genitori gli faccio fare il corretto come è andata a scuola? bene cosa è successo? niente ma sempre ma faranno sempre così ed è giusto così ma se io gli tolgo anche quel brivido di dirmi che hanno preso 9 il latino perché ci hanno dato dentro perché forse le ripetizioni sono servite si spengono se io non devo minimamente pensare di responsabilizzarli facendo scrivere loro i compiti sul diario perché ci pensa il registro elettronico è chiaro che poi come dire altro che rifarsi il letto la mattina ma se io a maggior ragione li privo di quell'esperienza formativa a mio avviso parola di psicanalista che è bigiare scuola veramente non andiamo da nessuna parte tutti quanti presenti ci metto la firma a proposito di firme che tutti quanti abbiamo messo la nostra prima firma legalmente accettata da maggiorenni sul libretto scolastico ciao ho 18 anni escono ora prima trac autografo adesso neanche se sei maggiorenne lo puoi fare anche il registro elettronico vale anche per i maggiorenni non so se l'esperienza della professoressa in università ma ci sono le mamme che vanno in colloquio con i professori in università che se la mia ci avesse provato all'epoca non so dove saremmo a questo momento e io come faccio a fuggire da tutto questo come faccio a rivendicare quel margine di primavera di libertà di corse nei prati del mi faccio gli affari miei beh c'è stata tossicomania ci sono stati disturbi alimentari adesso c'è il fenomeno del ritiro sociale sai che c'è? già che tu mi controlli H24 già che ti dico mamma papà non ho voglia di andare a scuola e tu mi lasci a casa io a casa ci rimango direttamente tutto il tempo mi chiudo in camera mi faccio gli affari miei e non provate a stanarmi da lì perché quello è diventato il mio ramo manco mi chiamassi Cosimo e volessi fare il barone rampante quella camera è diventato il mio piccolo mondo antico forse nuovo non lo so quando è stato detto ai ragazzi beh sapete ma dovete starci a casa si sono incazzati ma come ci sono un sacco di vignette se lo vedete anche sulla settimana che mistica che per me è un piccolo specchietto della contemporaneità dei genitori che spingono i figli fuori adesso non vogliono più uscire è arrivato il covid improvvisamente forse c'è della vita là fuori forse già che mi dicono che devo starci a casa comincio a ribellarmi a questo e anzi a maggior ragione e su questo secondo me cercherò di farvi fare un giro un po' contorto però di semplificarlo al massimo secondo me noi come mondo adulto come altro degli adolescenti abbiamo fatto un favore gigantesco a questi ragazzi nel momento in cui ci siamo mostrati totalmente inadeguati a loro e al loro discorso e alle loro richieste perché finalmente l'altro non rispondeva non sapeva che dire l'altro genitoriale l'altro scolastico l'altro sociale l'altro politico non aveva le risposte finalmente altrimenti altro che continuare a imboccarli perché adesso citazione di alto livello come dice Yoda il maestro Gedi è il fallimento del maestro che diventa il più grande insegnamento per l'allievo e laddove il maestro non ci arriva che io permetto all'allievo di metterci del suo se io se io ogni volta gli completo la frase se io ogni volta gli dico no guarda ci penso io no guarda lascia stare se ogni volta gli semplifico le cose in modo tale che ci riesca in modo tale da evitargli l'esperienza del fallimento l'esperienza traumatica del fallimento beh il meno che mi possa aspettare è che domani quello che sarà la classe dirigente non mi pagherà la pensione perché si aspetterà ancora che io gli faccia il letto ho fatto un po' un giro quindi quando diciamo no perché noi dovevamo stare più attenti a questi adolescenti e la scuola amica la scuola nel dire lo faremo adesso basta didattica a distanza adesso la scuola ci impegneremo come dicono certe battute che si trovano sui social basta investire i soldi negli F35 investiamoli in cultura non l'abbiamo fatto ed è giusto così non perché sia giusto così perché è giusto a un certo punto passare la palla in mano ai ragazzi passare la mano agli adolescenti è un problema no però passare la palla in mano agli adolescenti perché questo è sempre Winnicott ho detto che sono lacaniano quindi cito gli altri psicanalisti Winnicott dice che gli adulti devono fare il lutto della loro geminezza per lasciare la palla appunto ai giovani noi questo lutto non lo vogliamo fare è molto più interessante andare a scatenarmi in discoteca a stile della grande bellezza 50 anni che pensare di passare il testimone il covid ci ha chiuso tutti in casa e ci ha costretto per certi aspetti da un lato a fare gli adulti e quindi a poter dire che non avevamo le risposte e quindi a permettere ai ragazzi agli adolescenti di provare a farcela da soli provare a inventarsi delle cose provare a ribellarsi provare a dire finalmente dopo dieci anni di mancate occupazioni no il disgusto di cui parlava la professoressa prima il primo movimento soggettivo lo dice la psicoanalisi la psicologia sociale lo dice più o meno la qualunque e no quando un bambino rifiuta il cibo beh aspetta c'è qualcuno lì dietro non fa tutto quello che io voglio necessariamente ma ha prodotto anche un effetto contrario a questo perché in alcuni casi che sono trasversalmente riconducibili alla qualunque quindi non c'è struttura psichica che tenga non c'è livello sociale che tenga socio-economico culturale niente il covid ha preso la popolazione tutta in particolar modo gli adolescenti è tagliata trasversalmente più o meno a casaccio non è proprio a casaccio perché ci sono delle fragilità su cui però non credo che farò un tempo a entrare adesso e poi ripeto non voglio fare delle lezioni un po' troppo pesanti diciamo però su certa fascia della popolazione invece che mettere in atto il movimento appunto contrario a quello della securitarietà a quello del chiudermi dentro i miei confini per stare più al sicuro ha prodotto un irrigidimento ulteriore dei confini ha prodotto come citava prima Giulia ansia depressioni varie ed eventuali tutti i ragazzi hanno l'ansia tutti l'ansia è il termine passepartout della generazione di oggi cosa c'hai? l'ansia cosa vuol dire? non si sa però tutti hanno l'ansia è veramente un termine passepartout serve per dire che stai male che ti trovi un po' a disagio ma questo è il punto che a me interessa mettere in tensione con il discorso diciamo così covid tutta questa questione dell'ansia a proposito di guerre eccetera eccetera non è qualcosa che va da solo sempre richiamando la nostra amata lezione freudiana sappiamo che i sintomi hanno un piede nel sociale l'inconscio è anche sociale il mentale è anche sociale anche il piede destro sta da una parte il piede sinistro facciamo anche il piede sinistro sta nel sociale con questa ventata di progressismo il piede destro perché l'inconscio è un po' autoritario a suo modo è un po' un fascista un po' un despota questa dimensione della secolitarietà riguarda tutti non è questione culturale politica è proprio il funzionamento psichico c'è del fascismo nell'inconscio c'è della chiusura ed è soltanto la sua contrapposizione eros che può come dire forzare un po' le cose nella direzione opposta ma le pulsioni di vita di morte sono impastate diceva Freud è laddove si disimpastano che nascono i problemi ma allora se i sintomi sono anche sociali dicevamo prima che se un ragazzo non si è mai a 16 anni non si è mai sentito dire di no cosa vuoi per cena a 7 anni e non lo so che cosa voglio dimmelo tu come ti vuoi vestire dove vuoi andare in vacanza no abbiamo portato i ragazzi in vacanza perché gli pier ma quanti anni hanno i ragazzi 5 quindi decidono loro poi arriva una ragazzina a 16 anni con cui limonano tre volte e poi dice no sai mi piace quell'altro ops qualcuno mi ha detto di no sbarello come minimo e nel momento in cui mi trovo a fare una verifica ma chiaro che ti sudano le mani quando fai le verifiche tutti gli esami anche all'università uno un po' se la fa sotto però un conto è un po' farsela sotto un conto è farsi venire l'ansia un conto è andare dallo psicologo io ascolto dei ragazzi che dico boh ma davvero cioè tu mi stai raccontando che eh sì ma non è colpa loro ci mancherebbe non è colpa di nessuno perché non si va molto lontano dando le colpe piuttosto cerchiamo di piegare le cose verso la responsabilità ma in un mondo dove tutto è permesso a un certo punto nulla più è possibile se non a fronte di ammalarmi che si ha ansia quindi poi disturbi alimentari quindi depressioni i ragazzi di oggi vivono un po' in questo contesto che dicevo da un lato il covid ha permesso di spezzare e dall'altro invece ha amplificato nel suo versante più negativo quello appunto della sintomatologia e quindi il sintomo elettivo a mio avviso perlomeno al giorno d'oggi è appunto quello dell'eritigo sociale che è una cosa molto al di là del molto grave ovviamente però è anche molto difficile averci a che fare perché capite bene che se un ragazzo sta chiuso in casa va bene che Lacan diceva che quello che è terapeutico è andarci dall'analista cioè il moto al luogo poi quello che dici boh chi lo sa però se manco ci vai perché stai chiuso in casa tanto che si stanno attivando tantissimi servizi di psicologia a domicilio perché si fa difficoltà a stanarli a farli uscire ma in questo senso sempre nell'ordine diciamo così delle contraddizioni dei paradossi la cosa interessante è che da un lato è opportuno direi così che l'altro dell'adolescente quindi i genitori psicologi a scuola eccetera eccetera si occupi di lui di lei ma al tempo stesso io credo che è altrettanto opportuno che noi come mondo adulto chiamiamolo così come altri come altri degli adolescenti possiamo smettere di dare tutte le risposte dobbiamo fare dei passi indietro non dico di non preoccuparci ci mancherebbe però c'è un eccesso di è come l'occhi di qui sopra se io sono assuefatto da farmaci se c'è sempre qualcuno che fa le cose a posto mio capite bene che è un po' difficile che io riesca a separarmi simbolicamente dal contesto familiare la separazione di cui si tratta nell'adolescenza è una separazione ho detto adesso simbolica lo dico ai genitori signori nessuno sta dicendo che vostra figlia a 17 anni deve andare a lavorare farsi la spesa pagare i contributi eccetera eccetera ha 17 anni starà a casa ci mancherebbe ci pensate voi nei limiti del possibile però la separazione è a doppia mandata da un lato è l'adolescente che si deve separare dall'altro è il genitore che deve permettere da un lato all'adolescente di separarsi e dall'altro a lui di separarsi dall'adolescente capite bene che se c'è uno che tira a proposito di deumanizzazione come se fosse un cane al guinzaglio e quell'altro continua a tenere il guinzaglio è poi il rischio che il guinzaglio si strappi e allora sì che ci si fa male il covid secondo me ha permesso paradossalmente per certi aspetti perché chiaramente le cose non sono così facili come le sto spacciando però di resettare un po' questa dimensione e infatti questo inverno tutti i licei di Milano hanno occupato evviva alcuni più volte hanno fatto occupazioni cogestioni autogestioni eh era ora ma perché questo potesse avvenire noi perché qui non ce ne sono di adolescenti d'altronde quando si parla di adolescenza si parla ai genitori si parla agli insegnanti si parla agli psicologi piuttosto che è raro parlare con gli adolescenti di adolescenza piuttosto si ascolta la loro versione ma questo è il lavoro clinico chiaramente ma quando si parla con gli altri dell'adolescente con l'altro dell'adolescente anche sotto il magisterio del covid quello che continuo a ribadire sarà la quindicesima volta che ve lo ripeto questo pomeriggio è che innanzitutto più che avere noi paure del fallimento degli adolescenti aver paure che possano fallire che non entri in un'università adesso fanno gli esami di ingresso all'università in quarta in quarta superiore così si possono accappagare il posto è vero siamo noi che raccontiamo che il mondo è difficile che è precario eccetera eccetera ma perché continuiamo al tempo stesso a rimboccargli le maniche scusate le coperte e far sì che non si rimbocchino le maniche e allora come come altro quello che dobbiamo fare per certi aspetti è lasciare il campo loro lasciare l'adolescenza agli adolescenti il covid secondo me ci ha permesso questo nel lato positivo nel lato chiaro il lato oscuro della luna dicevo che invece ha acuito certe forme di sofferenza ma sono forme di sofferenza che continuano comunque ad avere un piede nel sociale e noi come altro sociale dell'adolescente dobbiamo dobbiamo permettere a proposito di tenere i piedi in due scarpe agli adolescenti di fare dei passi che per 15 anni noi abbiamo permesso di fare perché se no si fanno male perché se no si fanno le canne se no vanno il boschetto di rogoredo a farsi di roina se no 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 si sbuccia le ginocchie non va bene io mi trovo a fare un lavoro clinico con gli adolescenti di un certo tipo a sostenerli a cercare loro di dare fiducia rispetto al loro desiderio laddove intuisco che non si tratta di un capriccio e dall'altro lato con i genitori a dirgli delle cose che gliele potrebbe dire mia nonna no signora non si dorme a letto con suo figlio se suo figlio ha 17 anni no signore lei non deve aspettare il suo figlio sveglio tutte le sere sì con un occhio aperto sì non deve aspettare che venga a cena perché tutti i ragazzi di questo mondo all'invocazione è pronto in tavola ti risponderanno 5 minuti e ci sono 5 minuti tu li aspetti non un'ora e mezza eh no se no mangia da solo e mangerà da solo l'adolescenza è anche solitudine è anche trovare dell'altro al di fuori della famiglia ma se la famiglia è più adolescente dell'adolescente stesso capite bene che non andiamo molto lontano tornando al nostro amato maledetto che dir si voglia covid ha spezzato in parte questo meccanismo facendone risaltare le contraddizioni da un lato da un lato e dall'altro dicevo acuendole quello che accadrà lo vedremo per ora quello che mi sento di dire in questo in questo contesto è che ci sta che noi stiamo come parafrasando un film che è la meglio gioventù che noi facciamo un po' di da dinosauri per gli adolescenti perché sono loro no? che devono da un lato diciamo così poterci seppellire poter andare avanti se noi non glielo permettiamo rischiamo di diventare degli zombie altro che altro che covid che appunto ha messo in luce che la vita forse non sta necessariamente chiusa tra le pareti di casa che l'incontro con l'altro come un po' ricordava anche la professoressa in precedenza l'incontro con l'altro col legame col desiderio è veramente l'unico antidoto alla morte grazie 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 questo si aspetta su una sestetta vabbè grazie mille dottor Panico insomma una riflessione molto cioè ecco suscita tante secondo me riflessioni in caldo anche anche nel nostro pubblico perché sicuramente te mi toccati sono tantissimi non so se qualcuno appunto vuole intervenire o se insomma prego a stimolare un po' sostenere il desiderio di cambiamento è stato in questi ultimi decenni un blocco generazionale cioè lo scontro con le generazioni precedenti prego come superamento del vecchio la parte del nuovo c'è stato un blocco che secondo me mi stimola molto questo mi suonava questo discorso questa mia preoccupazione che sarebbe di poi le generazioni rompono le generazioni crimine che rompa e faccia riprendere la storia diciamo così quindi è un altro taglio che poi può fare a casa per analizzare a me non so a me sembra che c'entra non l'ho detto esplicitamente ma assolutamente sì venendo mancare il conflitto tra le generazioni viene mancare la possibilità progressiva delle generazioni questo è il punto io devo un po' di questa attenzione della compressione del tempo quindi come se si deve il presente e il futuro non esiste non esiste sia per diciamo coloro che possono ancora una punta adolescente come inizia quasi 50 anni e ancora più sono più giovani vedo che c'è difficoltà a vedere questo futuro manca c'è sempre il presente secondo me che va con questo perché non c'è nessuno che fa un passo indietro e quindi come dire venendo a mancare io per semplificare le cose faccio l'esempio del giochino del 15 che immagino conosce almeno io lo conosco con questo nome è questo dischetto grande più o meno come un cellulare con delle tessere che riproducono i numeri dall'1 al 14 generalmente sono fosforescenti o verdi o arancioni e servono questo giochino servono per i bambini per imparare a mettere in ordine i numeri dall'1 al 14 1 2 3 e si muovono si spostano ho spiegato malissimo però qua è il punto che la condizione perché le caselle si possano perché le tessere si possano muovere è che ne manchi una se non c'è mancanza non c'è nulla che si muove se non c'è possibilità di giro vi è gloria perché magari il bambino mette 1 3 2 5 9 ma è perché gloria che si impara non sono io che lo devo insegnare a proposito di imparare invece il discorso sociale contemporaneo degli ultimi dal dopo guerra in avanti progressivamente sempre più è sempre stato nell'ordine di andare a tappare quella casella perché se no poi ci si frustra se no ci si rimane male diciamo però è una stupidata per non dire altro perché non permette la coesione non permette il lutto adesso io sono andato giù un po' a gambattesa anche con questo contesto non l'ho fatto lo so per fare però con i colleghi piuttosto che quando si diceva ah mio dio che cosa succede il covid mica il covid chiaro che siamo tutti stati impauriti allertati perché di fatto non sapevamo che parte voltarci adesso abbiamo mascherine di tutti i colori prima cazzo è una mascherina non ci veniva neanche il me io avevo ho tuttora un paziente che in tempi non sospetti di covid dato che amava il mondo orientale per Natale si era fatto regalare cento mascherine perché in oriente andavamo già in giro con le mascherine gli adolescenti giapponesi coreani eccetera eccetera quindi lui ce l'aveva già era già pronto però io capisco sto dicendo vi sto provocando all'infinito però io capisco perfettamente come dire uno se piove prende l'ombrello se attraversa la strada aspetta che sia verde che non si mette a correre di traverso un'autostrada piuttosto che andare contro mano però però se c'è una cosa democratica nel mondo è la morte prima o poi ti succede che sia per la mattonella che ti cade in testa che sia per il covid che sia per un incidente stradale tocchiamoci tutti fate tutte le cose che volete ovviamente questo non vuol dire che io mi metto ad andare in contromano in tangenziale perché vediamo un po' cosa succede però se come dire questo discorso possiamo tradurlo nell'intimazione chi tocca muore adesso il discorso sociale fino ad adesso diciamo che riguarda gli adolescenti è diventato no ma poverino dai fallo provare ma come no poverino fallo provare no se no muore il covid ha un po' shakerato questa cosa qua e ci ha messo nelle condizioni di fare gli adulti di smettere poi chiaramente vogliamo tutti divertirci ballare ok però ci ha messo nelle condizioni di fare gli adulti ovvero la can direbbe di fare la parte dell'altro variato ovvero di non avere tutte le risposte questo vuol dire il Talmud dice impara a dire non lo so cerco di strutturarle in modo comprensibile allora in una situazione familiare che è stata descritta molto predeterminata predestituita dove tutto è data al ragazzo dove non ci sono sforzi che deve compiere dove ci sono tutte le risposte pensiamo alla situazione per pochi allora questa persona guardiamo di adolescente quindi sia un prossimo o uno stacco in qualche modo no dalla situazione familiare vuoi per la scuola per inizio all'università vuoi per andare a lavorare qualcosa di risposto no vuoi per la comorbidità sessuale e via dicendo e allora da un lato ci può essere il rinchiudersi in sé di fronte a una possibile apertura di possibilità che tu non hai mai sul dato che inevitabilmente ti spaventa perché sono così amiche così indeboli indeterminate che quindi con ansia con senso di intenzione dall'altro non può essere cercare quindi la possibilità che si innesca un sistema neurotico e dall'altro anche non c'è la possibilità che si cerchi nella realtà plasmandola una strutturazione simile a quella comediare tali per cui tu ripostumisci quel contesto attraverso delle interazioni che sono qualificanti che può essere nell'ambito universitario che può essere nelle tue relazioni sentimentali le tue relazioni amicali hai da riproporre quella esatta situazione di copertura di tranquillità tutto in qualche modo dato e tu sei possibile di quello ti sostegato? penso che sì l'altro è quello che ho capito io allora parto dalla seconda parte beh sì questo è quello che accade in ogni buona nervose che tenda che al di fuori della famiglia si ricorda lo stesso schermino dello schermino edifico Freud lo dice con i professori che diventano la mamma e il papà piuttosto che le fidanzate o i fidanzati comunque riproducono quella schermatizzazione quello è il punto se ho capito bene rispetto invece alla prima parte di quello che lei diceva è che il ventaglio di possibilità è talmente tanto esteso che si traduce in una impossibilità è questo che come dire diventa limitante e allora all'esterno si ritrovano si vanno a ricercare quei meccanismi che si sono diciamo così tra virgolette imparati all'interno del triangolo ma al tempo stesso nel momento in cui la possibilità è tesa all'estremo ovvero apro chiudo parentesi esempio hai più facoltà di scelta con 900 canali o con 2? con 2 con 900 fai i zappi in tutto il tempo e non guardi mezzo più con 2 scendi di guardare il talk show la televisione oppure terza possibilità spengo che faccio prima questo come si traduce nelle reazioni interpersonali al di fuori della famiglia che i legami è chiuso opposto 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 no perché non sapevo che sia arrivato però che i legami al giorno d'oggi non tembano che il valore delle relazioni non c'è non che non ci sia più ci mancherebbe ma si si è sempre dato progressivamente meno chiuso a questo laddove invece a mio avviso è ciò che può fare d'antidoto alla dimensione più strettamente mortificante del godimento e queste cose qua cioè se il legame se il rapporto con l'altro viene detto altrimenti tradotto nella logica mettiamola lì capitalista della mia facoltà di acquisto di oggetti tali per cui io cambio l'iphone ogni mese perché me ne danno uno nuovo da questo si riflette anche sul cambio del patto sul cambio degli amici e sul fatto che poi di fatto sul fatto che poi di fatto tradotto le mie relazioni in termini di quanti follower possono stare cosa ti dicono gli adolescenti oggi quando gli chiedi che cosa vuoi fare veramente una volta almeno dicevano il calciatore o la venda adesso dicono voglio diventare famoso che mestiere è diventare famoso cioè non lo so che mestiere è chiaro che poi per questo delle ricadute narcisistiche che la metà basta di riconoscimento di rapporto appunto nell'interazione con l'altro perché noi viviamo in un mondo che è fatto dell'immagine e del suo dominio e noi c'è stante che viviamo l'immagine ma questo ha perdita della dell'importanza diciamo della tenuta dei legami tra persone posso chiedere una specifica che è stato collegato la possibilità di costituzione in un mondo predetimito e protetto solamente all'interno di un contesto nevropico invece necessariamente così oppure no potrebbe esserci una tendenza in questo senso non legata a uno stato patologico la nevrosi o la psicosi non sono degli stati patologici sono delle strutture è diverso non sono delle malattie sono dei meccanismi di funzionamento laddove il meccanismo strutturale della psicosi è per definizione l'antilegame lo stare fuori dal discorso l'incapacità la difficoltà se vogliamo dintorarla a stare nell'indicante il discorso sociale di oggi è un discorso dal punto di vista strettamente che però appunto evidenzia un funzionamento più psicotizzante che nella loro più grande più teso allo sfaldamento dei rapporti della persona che alla loro ottenuta o meglio ancora più teso al mantenere dei rapporti sulla base di qualcosa che invece è fumo come sono i rapporti virtuali tanto che non l'ho detto prima ma come dire a maggior sostegno di quello che cercavo di dirvi prima tanto che se c'è una buona notizia che ci ha dato il covid arrivati per distanze eccetera eccetera che è riuscito e hanno detto basta non se ne può più vogliamo incontrarci di persona e cazzo era ora questo due domande che secondo me sono la stessa mi è piaciuta la differenza tra mondo adulto e mondo adolescente dato che viviamo in un paese che ha avuto un presidente del consiglio 60 anni che era un adolescente non crede che il problema sia reale niente che gli adulti sono gli adolescenti e la seconda che si collega a questo in un mondo dove noi adulti lei ha detto siamo precari cerchiamo di dare della stabilità a dei ragazzini cioè credo sia l'anno tutto quello che non dovremmo fare vorrei salutare sulla prima domanda io ho una tesi ovvero che la vita sia l'adolescenza che l'adolescenza sia la vita nel senso che l'adolescenza elettivamente come tempo dei teenager è il tempo della scoperta è il tempo in cui il soggetto capisce cioè capisce prova a capire che cos'è il proprio desiderio a mettere il moto a farsene qualcosa no quindi poi uno anche a 40 anni può decidere di cambiare lavoro andare a fare però è in quel tempo che ti sperimenti fai e beh questo rappresenta per certi aspetti tutto il moto stesso della vita ne ho parlato ovviamente nel mio lì vicino di cui vi invito a questo l'altra cosa sì io ho dei piccoli mantra che ripeto ai genitori dei miei pazienti e uno di questi è signori voi siete gli adulti e voi dovete stare fermi chi balla sono gli altri e non hai idea di quante volte lo debba ricordare credo sia un'esperienza di tutti quello che mi spavente che stiamo cercando dai ragazzini un moto di ribellione e io sono d'accordissimo con lei anch'io sto cercando da loro che vengano da me mi dicano sei un vecchio smettila per favore partene e non sono i più grandi mi sa il problema è che non ci siamo quasi noi io parlo per noi le nostre generazioni cioè stiamo sempre cercando di legare a qualcun altro quello che dovremmo fare noi dicendo come dai adesso dai sumeri ad oggi guarda questi ragazzi neri non funzionano sì sì cioè statisticamente parlando se la prendiamo dai sumeri dovremmo vivere un mondo di merda perché generazione dopo generazione sai in questo momento chissà che punto siamo è evidente che non è così è evidente che c'è come dire è come la regola l'unico modo che devi andare avanti è che la palla la devi passare indietro e se tu pensi se tu provi a buttarla avanti no devi buttarla indietro perché puoi andare avanti ma questo movimento lo si dà soltanto nel momento in cui l'adulto a sua volta diciamo così se ne fa qualcosa del proprio fallimento mi è venuto in mente mentre parlava finché non c'entra niente con quello con gli adolescenti e tanto meno col col che è questo si può fare con Claudio Bisio che si trova a dirigere una comunità di schizofrenici all'inizio degli anni Ottanta è una storia più o meno vera nel senso che prende degli spunti con gli altri eh? con gli altri non ho capito cioè di cura con gli altri no no il film si chiama si può fare lui è sindacalista e tra l'unico il gusto si trova a dirigere in questa comunità psichiatrica si mettono a fare poi delle cose con i parchieri vi consiglio anche divertendo e beh a un certo punto il gruppetto dei pazienti gli dice di no a una proposta che lui fa loro e c'è lo psichiatra che tra l'altro è Giuseppe Battistò cioè rappresentato da Giuseppe Battistò che dice a un viso che si incazza ma come io ho fatto tutto questo per loro tu non capisci che il fatto che loro ti dicano di no è la tua più grande conquista che loro vogliono fare qualcosa indipendentemente da te e quindi come direbbe un recalcati parlando del segreto del figlio il compito più importante che ha un genitore una scuola un discorso sociale nei confronti dei ragazzi è lasciarli andare permettere loro di andarsi per la loro strada poi è chiaro che se uno dice sai mamma pensavo di fare il terrorista mi dice aspetta posso che comunque è un punto di vista il terrorismo comunque gli indiani erano terroristi cioè Washington era un terrorista per gli indiani quindi dipende dal punto di vista però volevo ti pensavo di andare a spacciare aspetta però bisogna permettere di andare grazie a lei